Adesso è una certezza, in Sicilia i titolari di una concessione demaniale marittima non dovranno pagare il canone per l'anno in corso. Il governo guidato da Nello Musumece ha infatti trovato la copertura finanziaria alla previsione contenuta nella legge di stabilità, una misura fortemente voluta dall'esecutivo di Palazzo d'Orleans per offrire ristoro ai gestori dei lì di balneari dell'isola. Si tratta di 3.000 esercenti che danno lavoro a 100.000 persone. Avevamo assunto questo impegno e adesso puntualmente lo onoriamo, ha commentato l'assessore al territorio d'ambiente Toto Cordaro, per il quale il sostegno a uno dei settori strategici per il turismo siciliano rappresenta un altro inequivocabile segnale di quanto, in questo momento di grande e diffusa difficoltà, si alta l'attenzione del governo regionale che resta vicino alle codegarie produttive ed è costantemente impegnato a facilitare una ripresa economica a tutto campo. Le risorse stanziate ammontano complessivamente per l'anno 2020 a circa 10 milioni e mezzo di euro. Capitolo, trasferimenti ai comuni. L'assessore regionale degli enti locali Bernadette Grasso ha ribadito che sono stati rispettati i tempi, una boccata d'ossigeno che garantirà l'erogazione di 350 milioni previsti sul fondo ordinario. Pertanto sono in corso di erogazioni i mandati per la terza trimestralità e il saldo delle prime due. Ho proposto al Dipartimento Acqua e Rifiuti all'Assessorato dell'Economia, ha concluso l'Assessore Grasso, se per quest'anno si possa procedere alla sospensione delle trattenute a carico dei comuni a titolo di anticipazioni ricevute in passato in materia di gestione integrata di acqua e rifiuti.